Prima di iniziare, ovviamente un saluto al Ministro Musumeci, al Ministro Giuli, al Comandante Marittimo della Sicilia, a tutte le autorità presenti e poi volevo fare un paio di divagazioni che mi sono venute in mente ascoltando i lavori, poi vi prometto che parlerò di underwater. Però, come sempre ai convegni, uno si prepara le note e poi ascolta e gli vengono in mente altre cose. Innanzitutto dei ringraziamenti che non sono ringraziamenti di cortesia o di scontati. Il primo ringraziamento va a Valerio De Molli e al team di TEA, sia per aver organizzato la prima edizione per portare avanti questo forum che è fondamentale, perché la filiera della Blue Economy, secondo me, è una delle più frammentate che ci siano nel mondo industriale dei servizi. Ci sono tante componenti, ci sono tanti stakeholder, ci sono tanti interessi e il lavoro che avete fatto con il rapporto che ci hai presentato, secondo me, è eccezionale perché identifica dei trend economici, identifica delle criticità, identifica delle cose da fare. Quindi un ringraziamento non scontato e non di circostanza. L'altro ringraziamento ovviamente va al Ministro Musumeci, perché proprio per il fatto che la filiera della Blue Economy è articolata e complessa, l'esistenza del Ministero del Mare, ma soprattutto l'attenzione che il Governo sta mettendo, mi viene da citare la relazione della Presidente Meloni e l'Assemblea di Confindustria la settimana scorsa, ha posto un'attenzione che non si era mai vista tra gli operatori. Infatti al pomeriggio avevamo una riunione del gruppo della Blue Economy di Confindustria e il commento che facevamo tutti, che per la prima volta il Governo pone il mare al centro dell'attenzione e al centro della sua agenda. E questo, indubbiamente, di questo va ringraziato il Ministro Musumeci, il Dottor Rigillo, l'Ammiraglio Ribuffo, che in questi mesi sono riusciti a, grazie alle audizioni a cui faceva riferimento l'Ammiraglio Ribuffo, sono riusciti a mettere assieme tutti gli stakeholder e soprattutto a trovare un piano d'azione che secondo me migliorerà moltissimo le cose. La seconda divagazione che volevo fare era, perché mentre parlava Valerio e identificava un po' gli aspetti critici delle cose da fare, anche mentre parlava il Ministro Picchietto Fratin, ho un po' inquadrato, in termini consulenziali, se noi facessimo una matrice delle cose da fare e del piano industriale di Fincantieri, ritroveremmo moltissime comunanze. Fincantieri è molto attiva nel mondo dell'eolico offshore, ovviamente i dati che ci ha fatto vedere Valerio sulla navalmeccanica hanno una forte componente di Fincantieri, Fincantieri è il primo costruttore navale del mondo occidentale, però una cosa che volevo sottolineare è lo sforzo che Fincantieri sta mettendo in termini di formazione. Abbiamo lanciato un'iniziativa sia per migliorare le competenze delle nostre maestranze, che abbiamo chiamato maestri d'opera, e abbiamo anche lanciato un'iniziativa per, diciamo nell'ambito del piano Mattei, per favorire la formazione delle persone nei posti da cui provengono, in maniera tale da poi poter attrarre mano d'opera qualificata. Un'altra cosa che non si sa, e qui saluto veramente con grandissimo affetto agli allievi di Livorno e agli allievi del Morosini, perché come ha detto ieri il Miraglio De Carlo, se voi rappresentate il futuro, e soprattutto voi avete fatto una scelta molto difficile, quindi oltre che salutarvi vi ringrazio. Fincantieri è molto attiva anche nelle collaborazioni con gli istituti tecnici superiori, noi siamo soci della Fondazione Accademia Mercantieri di Genova e collaboriamo anche con l'ITS di Venezia, proprio per favorire il superamento di quel gap indubbiamente che c'è nel mondo marittimo. Adesso vengo all'Underwater. L'altro ringraziamento che faccio a Valerio è che mi evita di snocciolare un po' di numeri che abbiamo messo in fila, quindi 400 miliardi, la superficie inesplorata, eccetera, eccetera, per fare qualche valutazione un po' più qualitativa. E su questo partirei da una cosa che ci ricorda spesso il Ministro Crosetto, che è la seguente, è che la difesa e la sicurezza stanno alla base del nostro benessere. Noi abbiamo dato per anni, per scontato, questo primo mattone che, citando Maslow, è il bisogno primario dell'essere umano, nella sua piramide. Il fabbisogno di difesa e sicurezza l'abbiamo soddisfatto, l'abbiamo sembrato per scontato. Quello che invece sta succedendo, quello che è successo in Ucraina, quello che sta succedendo in Medio Oriente, quello che in generale gli scenari di crisi si moltiplicano per molteplici ragioni, quello che sta succedendo ci ricorda che il fabbisogno, il bisogno di difesa e sicurezza non è scontato. E questo si applica in particolare al mondo underwater. Perché? Perché il mondo underwater, come è stato detto in diversi modi e come ci ha ricordato l'onorevole Violante, il mondo underwater è già cruciale oggi. Oggi sott'acqua passano cavi di comunicazione. Se ci fosse un attentato a una delle dorsali di dati, noi oggi non potremmo trasmettere in streaming questa conferenza, oggi pomeriggio non potremmo fare un bonifico con una banca, domani mattina non potremmo comprare qualcosa su Amazon. Primo aspetto cruciale, in fondo al mare passano il 99% dei dati del mondo. Secondo aspetto cruciale, l'energia. Sott'acqua passano oleodotti. Il ministro Picchetto Frachetti prima ricordava la possibilità che dall'altra sponda del Mediterraneo, grazie alle rinnovabili, si possa produrre idrogeno. Quest'idrogeno blendizzato nei gasdotti attualmente utilizzati per il GNL viaggia verso l'Europa. Cosa succede se qualcuno di questi gasdotti viene attaccato come stato nel Nord Stream? Terzo aspetto, l'energia elettrica. Quindi già oggi il dominio underwater è un dominio cruciale per il nostro benessere ed è cruciale per la nostra vita quotidiana. La notizia è che il dominio underwater è vulnerabile. La vicenda del Nord Stream ha dimostrato che con relativamente poco sforzo qualcuno può porre fine o qualcuno può porre a forte rischio il nostro benessere. Il punto qual è? E' che nel mercato della tecnologia si stanno rendendo disponibili diversi assetti a basso costo che consentono ad attori non statuali, malintenzionati, di mettere a punto, di rendere vulnerabile il dominio subacqueo. E quando parliamo di vulnerabilità vengono in mente due concetti che il ministro Crosetto ci ricorda spesso che sono quello di autonomia strategica e sombranità tecnologica. Autonomia strategica perché il mondo underwater è cruciale per la nostra autonomia strategica? Perché sott'acqua passano dati, energia e gas. Sombranità tecnologica perché per poter far fronte a queste minacce è necessario sviluppare moltissima tecnologia. E qui vengo al ruolo di Fincantieri. Fincantieri nel corso della sua storia ha prodotto più di 180 sommergibili. L'assetto principe, come ci racconterà l'ammiraglio della Cerenza, sott'acqua è sommergibile. Quindi il nostro ragionamento è che partendo dal sommergibile, noi possiamo costruire attorno al sommergibile quell'ecosistema prima di ricerca e innovazione, poi tecnologico e poi di prodotto che ci consente di aumentare la capacità del sommergibile nel determinare quella che gli addetti ai lavori chiamano situational awareness. Sott'acqua l'aspetto critico è sapere chi c'è, sapere dove sta andando e sapere che cosa vuole fare. E su questo noi appunto vediamo la grande opportunità. La grande opportunità di integrare la nostra catena del valore partendo dal sommergibile e costruendo attorno al sommergibile questo ecosistema tecnologico. Cosa stiamo facendo? Innanzitutto noi lavoriamo e io personalmente lavoro sul tema underwater da quando l'ammiraglio Ribuffo coordinò anni fa una serie di gruppi di lavoro che vuole fortemente l'ammiraglio credendino e noi siamo stati attori molto attivi nella Costituzione del Polo Nazionale della Subacquea sia in fase preparatoria ma soprattutto anche in fase operativa. Nel corso di questi mesi abbiamo cominciato a costruire questo ecosistema tecnologico attraverso accordi a partire da un accordo con Leonardo molto strategico accordi con Cabicattaneo, accordi con Vsense. Abbiamo acquisito Remazel che è un'eccellenza, è un piccolo gioiello è un piccolo gioiello dell'industria italiana in grado di realizzare impianti cruciali per il mondo underwater che sono gli impianti di lancio recupero. Completeremo l'acquisizione di VAS che è la business unit di Leonardo che si occupa proprio di Subacquea. Quindi per concludere, perché il tempo sta finendo la nostra ambizione è quella di, in forte collegamento con la Marina Militaria Italiana come abbiamo sempre fatto, in forte partnership con la Marina Militaria Italiana la nostra ambizione è quella di diventare un po' i vertici di questa filiera che stiamo costruendo sull'underwater e che tra parentesi, e qui ringrazio di nuovo il Ministro Musumeci nel piano del mare, appunto, è concludo e viene riconosciuto a fincantieri questo specifico ruolo di aggregazione, questo specifico ruolo anche di facilitazione, perché l'altra considerazione che mi viene in mente è che in una filiera così articolata come quella della Blue Economy ma soprattutto come quella dell'underwater, in cui l'esigenza operativa non è ancora chiara il requisito men che meno e c'è da sviluppare molta tecnologia la grande impresa, fincantieri, può giocare un ruolo cruciale perché tutte le tecnologie che verranno sviluppate nel dominio underwater dovranno poi essere integrate a bordo di un sommergibile o a bordo di un assetto maggiore il nostro ruolo deve essere quello di identificare con la Marina esigenze operative e requisiti tecnici tradurre queste esigenze operative in tecnologie abilitanti e guidare tutta la filiera nello sviluppo di questa tecnologia io vi ringrazio grazie a lei